benvenuti siamo qui oggi a misana triatico in questa splendida cornice dopo qualche tempo siamo tornati a far festa insieme ai nostri appassionati ed abbiamo portato qui due veicoli uno qui al mio fianco l'Aktros L l'Aktros migliore di sempre quello che a noi piace dire in termini comfort e di sicurezza disponibile per i test drive sia in esterna che anche in pista dove si può veramente provare le emozioni per correre con questo splendido veicolo la pista di Misano e dalle mie spalle invece abbiamo un Actros sul quale abbiamo applicato delle grafiche che richiamano comunque alla sportività e dinamicità del nostro brand e dei nostri veicoli guarda come stare seduto sulla poltrona di casa praticamente veramente comodo nessuna vibrazione no no viaggiare è molto brillante molto comodo è un mezzo molto molto bello da guidare comodo e comporta alle stelle sono un ex camionista ritrovato in questo camion tante emozioni ho fatto un piccolo giro però emozioni e divertimenti grazie a tutti